Dal sorbetto al sedano al gelato, chi piace anche in Vaticano, alle guardie svizzere del Papa. Sbarca ad Arezzo, più nel centro della città, la gelateria Cioccolateria. Carlo? Sì, è stata una bella esperienza, ripetuta per due anni e anche per il prossimo sono invitato in Vaticano a questo evento. Sì, non solo, vedendo dal flusso della prima giornata sono strafelice, stracontento di aver avuto un riscontro così importante. Siamo molto contenti. Dalla Valle di Chiana al centro di Arezzo? Dalla Valle di Chiana al centro di Arezzo, che c'era già stata al centro di Arezzo, perché io nasco fino ai anni 90, ho gestito appunto un bar in centro e ora questo qua è il ritorno. Il gelato ormai ha fatto un piatto, non è più un dessert, ma è un piatto della nostra cultura. Tante anche le specialità, tra cui il sorbetto al sedano, con cui ha vinto un premio? Sì, la specialità sorbetto al sedano, quest'anno da ora abbiamo anche altre offerte per tutti i tipi di clienti. Stiamo agistando appunto un tipo di gelato per vegani, perciò tutti gli intoleranti possono venire qua e potranno degustare il proprio gusto senza problemi.